E questa volta parleremo non dei Kings, ma del loro leader carismatico Ray Davis. Ray Davis iniziò a fare degli album da solo negli anni 2000. Nel 2006 esce infatti il suo album secondo, album da solista, che era intitolato Other People's Lives. E come sempre la sua vena compositiva, che non è mai venuta meno, ha prodotto degli episodi musicali, delle cose veramente molto molto belle e molto interessanti. Ce lo ascoltiamo direttamente in una bella performance dal vivo, tra l'altro. Vedrete che Ray è molto molto in forma. In un brano di questo LP il titolo è Run Away From Times. Ray Davis. All right, this is a song, you can run away from your house, you can run away from responsibilities, but you can't run away from time, or so they say. Hey, my friend, you can't run away from time, you can't but think, time won't wait, you can't run away from time, and time is the adventure. But why should we just surrender to it, why don't you run, 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 run away? Let's run away from time, run, 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 run away. Hey, 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 let's run, 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 run Run away Take me Save me Baby Run, run, run away Run, run, run away Run, run, run away And all the world is obsessed by the continual quest To the fountain of youth they will never find And time is the adventure But why should we just surrender to it? Why don't you run, 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 run away Let's run away from time Run, 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 run away Run, run, run away Run, run, run away Run, run, run away